Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. È Giorgia la protagonista della copertina del nuovo numero di Vanity Fair. Classe 1971, Romana Doc, Giorgia è una delle più belle voci italiane, anzi forse la più bella in assoluto, capace di coniugare tecnica, studio ed emozioni. Sulle pagine del magazine, Giorgia ha parlato di diversi argomenti, dalla politica alla nuova esperienza a decimo factor, in veste di conduttrice, fino alla vita privata. A tal proposito, ha fatto alcune rivelazioni che riguardano anche il compagno, il ballerino e insegnante di danza Emanuello. Innanzitutto ha dato il bellissimo annuncio. Manuel gli ha fatto la proposta di matrimonio, con tanto di anello. C'è stata la proposta, c'è stato un anello, e c'è stata la commozione. Una bellissima notizia per tutti i fan della coppia. Dopo 20 anni lei ed Emanuele sono ancora innamorati. Penso che un rapporto vada nutrito ogni giorno, non do niente per scontato. Il che da una parte è positivo, dall'altra sembra sempre che ci conosciamo da 5 minuti.